Se la Campania sarà amministrata come è stata amministrata a Salerno, il PIL del nostro paese crescerà dallo 0,5 all'1%. Queste le parole di Matteo Renzi, che insomma sembra voler smentire quanti in questi mesi, hanno ipotizzato una sorta di abbandono di Vincenzo De Luca alle sue sorti dalla direzione centrale del partito. Il Premier sceglie Salerno per appoggiare totalmente il candidato Democrat alla corsa allo scranno più alto di Palazzo Santa Lucia. Parla intensamente di Campania Renzi durante il suo intervento. Sulla terra dei fuochi prende un impegno. Entro la fine di questa legislatura dice questa espressione dovrà appartenere al passato. Durante la sua visita il Presidente del Consiglio ha incontrato anche i lavoratori della Whirlpool in vertenza per la chiusura della sede di Carinaro e su di loro Renzi ha affermato non è solo il tema di un'azienda, se arriva alla desertificazione industriale di un territorio lo Stato si arrende le sue parole. Un richiamo allo strapotere della Camorra che, secondo il Premier, si combatte corpo a corpo creando occupazione sui territori. Non sono mancate le contestazioni. Un gruppo di manifestanti appartenenti ai Cobas della scuola ha di fatti duramente protestato all'esterno dell'hotel Mediterranea dove si tenevano i comizi e non sono mancati momenti di tensione.